numero 5 raschietto per la pulizia della lingua in rame al 100% con custodia in iuta questo pulisci lingua è antibatterico e aiuta a combattere l'alito cattivo le maniglie dalla forma arrotondata sono facili da impugnare il materiale flessibile rende questo prodotto adatto a tutte le bocche per pulire il pulisci lingua e mantenerlo più a lungo si consiglia di asciugarlo dopo l'uso se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 per una bocca completamente sana è necessaria un'igiene orale completa questo pulisci lingua completerà la tua pulizia quotidiana per un alito sempre fresco e per eliminare al 99 i batteri della bocca il prodotto è realizzato completamente in rame per le sue proprietà ad ampio spettro antibatterico e antimicrobico indicato dai migliori dentisti si consiglia di strofinare la lingua al mattino o a stomaco vuoto dopo l'uso lavare il pulisci lingua con acqua tiepida e asciugare completamente nella confezione è incluso un manuale di istruzioni se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 nella confezione troverai due pulisci lingua in acciaio inossidabile di grado medico ideale per rimuovere i batteri della bocca facile da pulire dopo l'uso si consiglia di asciugare bene il prodotto il pulisci lingua non contiene sostanze nocive ideale per pulire la lingua in profondità e combattere l'alito cattivo trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 pulisci lingua in rame al 100% si consiglia l'uso di aceto e sale per pulire il raschietto dopo l'uso ideale per rimuovere batteri e tossine consigliato dai dentisti per un igiene della bocca completa utilizzando regolarmente il pulisci lingua potrai eliminare l'alito cattivo assicurarti un alito fresco per tutto il giorno e migliorare il gusto questa confezione contiene tre raschietti trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 1 migliora la tua cura orale con questo pulisci lingua in rame tra i benefici un alito sempre fresco e una migliore salute della bocca i bordi sono spessi e sicuri per evitare tagli il pulisci lingua è adatto ad ogni bocca offre una lunghezza ottimale in modo da pulire l'intera lingua in modo efficiente la confezione contiene quattro pezzi due raschietti in rame e due in acciaio inox l'uso quotidiano assicura un ottimo trattamento per l'alitosi e per una pulizia orale completa il manico è flessibile e l'impugnatura comoda in descrizione trovi il link di questo prodotto